Direttore Berlusconi ha risposto alle domande del Paese accusando il suo giornale di essere fazioso, che ne pensa? Io credo che Berlusconi dovrebbe considerare faziosi i suoi mezzi di comunicazione, quelli che lui controlla, in una democrazia avanzata. Quindi secondo lei Berlusconi non rispetta la libertà di stampa? Io credo che Berlusconi ha un grave problema di comprensione di come funzionano le democrazioni, e per tanto Italia ha un grave problema con Berlusconi. Io credo che un periodo come il Paese, se giornali come il Paese e Repubblica fallissero sarebbe un disastro per la democrazia e per tutta l'Europa. I governi tendono per natura a controllare la stampa, ma stanno sempre attenti a non oltrepassare le linee che bisogna andare fuori dall'Europa e dall'America del Nord. Bisogna cercarlo in paesi e regimi come quelli dell'America Latina, come nel Venezuela di Hugo Chavez ad esempio. Come Hugo Chavez o come altri. Grazie.